Pianisti durante i colloqui 1. Il classico all'italiana Buongiorno, buongiorno Grazie, le faremo sapere Centenissimo, grazie a tutti 2. Il classico disperato Eh no, tu sei diplomato Sì, vabbè, ma è un errore che ho fatto in passato Potrei suonarli anche in audio se volete Se ci suoni solo gli accordi per noi va bene Ma batte l'affanculo 3. Il tastierista 3. Il suo amore che sta fatto nel suo giro Ah, vabbè, vabbè 3. È rotto il cazzo Vabbè, però, non te incazzare